Musica 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 Aspena Musica 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 Sì, si attenta ancora. 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 Siamo rammaricati per il risultato, ma questo passa in secondo piano. Il prossimo turno? Il prossimo turno andiamo a giocare nella Tana del Lupo, come si dice. Questi stanno andando a mille, però io ho la consapevolezza che noi la nostra partita la andremo a fare. Questi stanno schiacciando tutti. Vediamo. Dopo la partita potrò dire di aver incontrato la squadra più forte del campionato, però, ripeto, me la vado a giocare perché ho la consapevolezza della forza della mia squadra.